Buongiornissimo, buongiornissimo, buongiornissimo a tutti, siamo Ok, è la mia canzone preferita di Natale Particolarmente Io l'ho sentita tutta negli iPods e vi assicuro che non è stato divertente Come, non ti piace la mia voce? Veramente? Non ti piace? No, 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 era bello Sulla voce oggi ho ben poco da dire In effetti, no, bello, però tutte le volte che lo canti mi torna in mente Mamma ho perso l'aereo, lui che corre di notte, mamma mia che angoscia Esattamente Ma tra l'altro, Carol of the Bells, che era la canzone che stavo cantando prima Non ha nulla di... cioè, è una canzone super angosciata, però è bellissima È bellissima, cioè, secondo me non c'entra proprio un cazzo con Natale Ma è bellissima Ok, se lo dici tu io mi fido Non amo molto il Natale Chi sono io per giudicare rispetto alla bellezza delle canzoni? Ma, appunto, stiamo parlando di Natale Stiamo parlando di persone che non amano il Natale e le festività in generale Che puntata è oggi? Oggi è la puntata di come sopravvivere alle feste se sei contro la convenzione del dover per forza essere in coppia Alias se sei single Ma è una convenzione quella di essere in coppia per le feste? Allora, convenzione no Penso che sia un evento pari a quello di non essere in coppia per le feste Ma convenzionalmente ci viene riportata alla società un certo tipo di narrativa E un certo tipo di immagine idealizzata su quello che dovrebbero essere le feste per l'individuo Che però non viene mai percepito solo come individuo Ma sempre come facente parte di un gruppo affettivo più grande Sia essa una coppia, sia essa una famiglia, sia essa un Ok, va bene, accettiamo No, accettiamo molto poco Però tolleriamo il fatto che ci sia questo tipo di narrativa Ma portiamo alla luce il fatto che le feste possono essere un bel problema Per chi non è parte di questa società normativa Che ci vuole tutti i famiglie del mulino bianco, tutti felici Lui e lei che si scandalano regali sotto l'albero Magari anche un bambino che ha appena visto Babbo Natale Oppure un cane ciuffoso che... Ciuffoso! Sì, hai presente i cagnolini tipo i maltesini Ciao, virgola Che appunto fanno un po' questa atmosfera buonista Fastidiosa Fastidiosa lo sto mettendo io Insomma, le feste possono essere un bel casino Per chi in questo momento non rientra all'interno dell'immagine dorata che ci hanno propinato Per anni Che soprattutto Ieri sera stavo guardando lo speciale di Natale Che hanno fatto dei guardiani della galassia Molto, molto carino Perché mi piacciono molto i guardiani della galassia Però anche lì vedi proprio un po' La forzatura del fatto che a Natale siamo tutti più buoni Perché nel resto dell'anno siamo degli stronti Cioè nel senso che... È una cosa che non ho mai... Mai, 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 mai capito Comunque domani è Natale, quindi buon Natale Ma non... Giusto, giusto Ah, esce il 24 dicembre? Eh sì Buona sapersi Ehi, è la vigilia di Natale Guarda, io mi pregio di questa cosa Io sono stronza esattamente tutti i giorni dell'anno allo stesso modo Le festività non vanno a intaccare la mia identità Il Natale non cambia Giulia È Giulia che cambia il Natale Ma in alcuni casi sì, mi... Ma ordunque, ordunque, psicologa può darci dei suggerimenti Nel qual caso fossimo single durante le feste barra Fossimo per motivi di lavoro, per motivi di necessità Distanti dalla famiglia O se non avessimo una famiglia costruita o di riferimento E quindi ci trovassimo a vivere il Natale e il Capodanno Come se fossero giorni qualunque Sì, in effetti le festività in famiglia possono essere estremamente complicate Anche perché stiamo dando per scontato che per tutti ci sia una famiglia E invece no Perché esistono persone che in questo momento non hanno più un compagno o una compagna Persone che magari hanno perso i familiari, i genitori Persone che stanno vivendo in qualche modo un lutto personale Ecco, a tutte quelle persone Primo, vi sono vicina Emotivamente vicina Secondo, non vi prego non fate nessun tipo di bilancio durante questo periodo Mi spiego meglio Le feste molto spesso ci portano a fare dei bilanci sulla nostra vita In modo sia richiesto tipo Ah ma che propositi hai per l'anno nuovo? Nessuno Fare schifo come al solito Oppure Questo Natale cosa desideri che accada? E di fatto le festività spesso coincidono con delle aspettative deluse Quindi non mettetevi a ragionare sui traguardi che non avete raggiunto durante l'anno Non guardate quello a cui non siete riusciti ad arrivare Piuttosto chiedetevi dove vorrei andare Quindi prendete questo momento come un momento per voi curativo Per voi non dico festivo A meno che non vogliate In quel caso tanto pandoro per voi Ma prendetelo come un momento in cui l'enfasi delle feste O tutta la preparazione si è finalmente fermata E potete prendervi del tempo e concentrarvi su di voi Anche perché vi ricordo che siete la persona con la quale passerete il resto della vostra vita Trattatevi bene, vi prego Tra l'altro io avevo sentito proprio su questo Ottobre, novembre, primi di novembre Un commento su Clubhouse Una persona che proprio diceva questo Diceva non fate bilanci Non mettetevi a pianificare E quindi non mettetevi anche a pianificare Verso la fine dell'anno Perché intanto c'è tutto il mood festivo E quindi ovviamente è chiaro che rispetto Diciamo chiamiamola un mood lavorativo Per la maggior parte delle persone Cambia anche un po' l'ambiente Cambia il setting Ma soprattutto non possiamo pensare di ridurre a due settimane Se sono due settimane Possiamo dire una settimana a dieci giorni Le analisi, le cose Con l'angoscia dell'anno che scavallano E quindi dare anche troppa ritualità a questa cosa Quando in realtà se volessimo veramente metterci a fare dei bilanci Forse ci avremmo dovuto pensare Gli ultimi mesi dell'anno Per chi li fa Non per chi è obbligato come le aziende Ma in generale per chi li fa Quindi è una forzatura È una forzatura tremenda questa E purtroppo è una forzatura Che è anche estremamente presente Cioè a livello pop Inteso come popolare Perché tutti parlano dei buoni propositi Dell'anno prossimo Però è inutile Vabbè ma sappiamo che in realtà l'anno nuovo alla valenza del lunedì mi metto a dieta Dalla settimana prossima comincio a fare questo In realtà può essere utile se ci si dà degli obiettivi realistici Però c'è anche da dire che le cose se vuoi farle Indipendentemente dal periodo dell'anno nel quale ti trovi peraltro O della settimana Poi altri consigli Giulia Sì Beh c'è un aspetto che è fondamentale Cioè alcuni studi hanno sottolineato l'influenza delle festività Sulle persone che sono già in una condizione di fragilità psicologica Perché le feste natalizie o di annuca O il periodo delle festività Può accompagnarsi con un peggioramento del tono dell'umore A questo proposito allora vi prego Cercate di individuare quali sono gli eventi trigger Cioè quegli eventi delle festività che possono scatenare delle reazioni emotive intense Ecco una volta che le avete individuati Cercate il sostegno di relazioni sociali vicine Quindi è il momento giusto di chiedere un minimo di supporto A il vostro psicoterapeuta O anche semplicemente ai vicini di casa Insomma se sapete che questo periodo per voi è particolarmente triggerante Non abbiate paura di chiedere aiuto Di chiedere una mano Anche perché è brutto da dire Però essendo noi tutti umani Tutti noi ci ritroveremo prima o poi nella vita In uno di questi momenti Per chi è singolo o per chi non ha creato una famiglia propria Beninteso Difficile definire cosa è famiglia e cosa no È possibile che il Natale crei un senso di solitudine ancora maggiore Un suggerimento è quello di scavallare l'idea del Natale Come dono ricevuto e portare invece l'idea di dono da portare agli altri In poche parole rendetevi utili È questo il momento giusto per farvi vivi con associazioni di volontariato O dare la disponibilità per il supporto a chi in questo momento se la passa ancora peggio di noi Esatto potete sentire ci sono un sacco di associazioni che ad esempio durante i Natali Fanno degli interventi di intrattenimento negli ospedali Ci sono delle associazioni che invece sono rivolte agli animali Quindi giornate in canile E sicuramente potrebbe essere una buona alternativa per passare un giorno stando a casa a compiangersi Ma se preferite stare a casa e compiangervi va benissimo Non è un problema assolutamente Il punto è che non vi dovete sentire in dovere di sentirvi in un certo modo Perché non c'è un modo giusto per sentirsi Anzi una cosa che penso sia importante È proprio scardinare un po' l'idea che a Natale bisogna essere tutti più buoni Durante le feste siamo tutti più felici Stare con la famiglia è un dono No per alcuni di noi la famiglia non è un dono E riconosciamolo, riconosciamo il fatto che le narrative alle quali siamo abituati Potrebbero non essere coincidenti e universali per tutti Riconosciamo questo E offriamo supporto appunto a chi si ritrova in condizioni di questo genere Ma se sei single oppure se in questo momento sei distante dai tuoi affetti Goliti le feste esattamente a modo tuo E a modo tuo può essere dormire di più e meglio Cioè prendi proprio il tempo per riposarti Il 25 mattina stai a letto e fatti gran sacchetti di fatti tuoi Guardandoti tutti quei video stupidi su YouTube di come si spremono i brufoli o altre cose No anche gli aschi che urlano Anche gli aschi che urlano O le cabre che cadono Oppure i gatti con i cetrioli Oppure l'e-commerce degli oggetti casalinghi cinesi Del quale io e Marta siamo grandi 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 fan Insomma prenditi del tempo proprio per riposare mente e corpo Personalmente vi posso assicurare che uno scrub fatto il giorno di Natale Mentre tutti sono fuori a rompersi le balle perché devono andare necessariamente a pranzi di famiglia eterni O alla messa Anche Anche Beh lo scrub e poi la crema corpo in quel momento è una delle cose più belle della vostra vita Può anche essere che non ve ne freghi niente della vostra pelle In questo caso non vi giudico Ma prendetevi del tempo proprio per coccolarvi Per fare quelle cose che generalmente nei giorni feriali vi sognate Altra cosa Lasciati trasportare dalle tue emozioni Cosa vuol dire? Ok c'è un momento di down Ci sta Pigliatelo Se senti che è troppo down Ti prego prendi le giuste precauzioni Se senti che veramente la situazione è incredibile Ti prego non fermarti e chiama il telefono amico Sono numeri di telefono gratuiti Che possono davvero salvarti la vita Dall'altra parte Lasciati trasportare dalle emozioni Ma inizia anche a sentire queste emozioni Non è necessario mettersi davanti a un film di Natale Per poter piangere tutte le tue lacrime Rispetto al fatto che la vita in questo momento non sta andando come vorresti Però magari quel film di Natale oggi potrebbe aiutarti Per lasciare andare alcuni aspetti di te E poter riprendere in mano alcune cose Che invece avevi dato un po' per scontato e un po' andate Questo significa anche che puoi scegliere di addobbare la casa come vuoi tu E io penso che non ci sia niente di meglio Di tirare fuori i teschietti di Halloween Quando tutti in realtà si aspetterebbero grandi Babbi Natali Io vorrei Babbo Natale che rutta E sai che forse c'è? Che canta Jingle Bell saluttando Bellissimo Non credo Secondo te gli americani non hanno partorito Ma certo che c'è Cioè so che c'è So che esiste Lo vorrei tanto Quindi mi stai dicendo per favore regalami questo? Interpretalo un po' come vuoi Molto bene Oppure semplicemente gonfiati il materassino gonfiabile Buttalo nel divano di casa E fingi di poter passare il tuo Natale al calduccio È una cosa che ho fatto intorno agli 8 anni Ed è stata particolarmente piacevole Ciò detto Andiamo oltre Fai qualcosa che sia veramente fuori dagli schemi Fuori dai tuoi schemi Manda quel messaggio del quale ti vergogni Oppure vestiti in un modo che tendenzialmente non è il tuo Ma permettiti almeno in questo giorno Quando la società ti vorrebbe in un certo modo Di vivertela esattamente come preferisci L'importante è che Ecco magari se ci sono meno due gradi Non vestirti troppo leggero Perché poi ti prendi un malanno e stai malissimo Non va bene No esatto Esatto Sappi anche una cosa Che dal punto di vista clinico Il periodo tra gennaio e marzo È un periodo in cui gli studi si riempiono Proprio perché i Christmas survivor sono tanti Molti di noi infatti Di fronte a questo momento In cui tutti dovremmo rallentare E gioire ed essere grati Ci ritroviamo davvero a dover Fare i conti con i nodi Che avevamo lasciato Ok Utilizza appunto questo tempo per crescere Io lo so che è molto comodo dirlo Dalla mia posizione privilegiata Dietro questo microfono Però ti posso assicurare Tu che mi stai ascoltando Indipendentemente dal tuo genere Indipendentemente dalla tua età Indipendentemente dal tuo credo politico Beh insomma quello un po' per me Capisco il tuo dolore E ti assicuro Natale Capodanno L'epifania È semplicemente Un altro insieme Di 24 ore È vero Ogni momento è importante Ma sei solamente tu Che puoi dare l'attribuzione Che ritieni più tua E più corretta Se ti senti solo Approfitta per fare un repulisti Della tua rubrica E capire chi vuoi veramente In questo momento nella tua vita E beh è anche il momento giusto Per fare una wishlist Nel senso che tutti si aspettano Grandi regali per Natale Ok tu che regalo ti stai facendo? Il regalo può anche essere Il dedicarsi del tempo Per iscriversi a un corso Oppure dedicarsi una giornata Per stare tutto il giorno A leggere libri trash Va bene qualsiasi cosa Perché tu possa trovare Il modo migliore Per festeggiarti Perché forse le festività Potrebbero ricordarci un po' questo È bello stare insieme Ma è bello anche stare con noi stessi Se riusciamo a trovare Un modo equilibrato Per poterlo fare Mi sembra di aver praticamente Celebrato una messa Perché ho parlato Non stop Sì sarà il mood Catto Catto natalizio Catto natalizio Catto natalizio Ma catto nel senso di miau? Tra l'altro ho sentito Cioè non so se sia la mia bolla Ma sempre più persone Detestano Capodanno Ma guarda Allora un tempo La mia posizione La mia posizione è cambiata Un tempo Capodanno Era la mia festa preferita Perché Oddio Perché era Ma un tempo ti parlo Prima che mi venisse La gastrite così forte Era il periodo dell'anno In cui tu potevi fare festa Cioè era un momento In cui tutti si spaccavano Tutti si divertivano E cioè socialmente Quello ti veniva detto di fare Fai festa Fai schifo Poi niente Poi si cresce E adesso onestamente Solo l'ansia di sentire Ma cosa fai a Capodanno? Eh no Cioè La mia ambizione è stare Sul divano A guardare la tv E a far finta che sia Esattamente un giorno Come un altro Cosa che ho fatto Negli ultimi due anni È stato meraviglioso Eh sì Nel senso che Posso capire Quel tipo di Modalità di celebrazione Di riti di passaggio Quando effettivamente Dipendevamo strettamente Solamente Dall'agricoltura E quindi Ok Ma tra l'altro Ma tra l'altro Scusa A proposito di questo In realtà è settembre Appunto Sì in realtà Il vero Esatto Esatto Io non so perché Teniamo sempre gennaio Ma il vero anno Lo sappiamo tutti Che inizia settembre Appunto Sono d'accordo E quanto bello è Parlo per le persone Che hanno terminato La scuola dell'obbligo Quanto bello è adesso Vivere settembre Sapendo che tu Non dovrai ritornare a scuola No devi solo andare a lavoro Esattamente come Come agosto Come luglio Come killi tu le vibe Nessuno mai Ah scusami Semi cheat Kill the vibe Da Ernia Siamo state a un suo Evento Recentemente E ha dichiarato Che non voglio cantarvi Tutta la canzone Perché non voglio Killare le vibe Però adesso Quella canzone È la prima O la seconda Comunque Most viral song On tiktok Volevo dire Va bene Io direi che possiamo Salutarci Noi sappiamo che Durante le feste Il vostro stress Aumenterà E non perché ve lo diciamo noi Ma perché i vostri livelli di cortisolo Salgono Salgono tantissimo Ma tantissimo Ma vi assicuriamo Che anche quest'anno Queste festività Passeranno E potrete scegliere Di celebrare Altre festività Che siano solamente vostre Che abbiano un significato Più personale Ad esempio Io propongo sempre Giulia Disegna Day Sentitevi liberi Di proporre delle date Io festeggio Il giorno In cui è arrivata La vergola a casa Oh che cosa dolce Anch'io festeggio Il giorno In cui è arrivata Nini a casa Io non festeggio Niente perché Sono partita Iva E non posso Permettermelo E su questo Simpatica chiusura Vi salutiamo Vi ringraziamo Franci Vuoi concludere tu Con una splendida canzone Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.